Ma di tutti i comparti, la disoccupazione dei nostri giovani e il male che c'è assale a tutti quanti. Voi con le fasce, a testa alta e a schiena dritta, con i pugni sul tavolo, con la gente! Siamo venuti qui a rendervi il grazie per partecipare alle lotte e alla mobilizzazione. Oggi è una giornata importante, le nostre lotte, le nostre mobilizzazioni, l'unità che si è creata è la forza per cui abbiamo oggi i ministri. E' una sensibilità a cui li abbiamo fatti aprire e scendere nel succeso iglesiente. Accogliamoli con le nostre proposte e diciamo che oggi devono venire con risoluzione dei problemi. E' un primo a parte, non ce l'hanno, ma noi siamo in questo tempo per continuare la mobilizzazione e dare una terapia a questo territorio. Grazie! E' un primo a parte, non ci si troca, non ci si troca. LABORO! 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 La cassa integrazione non è la parruzione, lotta dura per l'occupazione, la cassa integrazione non è la soluzione, lotta dura per l'occupazione. La cassa integrazione non è la soluzione, lotta dura per l'occupazione.